Parte la rassegna artistico-culturale-parole, appuntamento giunto alla seconda edizione, che si terrà a Fossombrone dal 19 ottobre al 23 marzo 2024. Una rassegna legata ad un'idea di turismo e cultura capace di unire arte, storia e archeologia del territorio. Cinque mesi di appuntamenti nel centro storico di Fossombrone che avranno come filo conduttore unico la parola. 15 eventi tra presentazioni di libri, concerti, giornate dedicate alla poesia dove si metteranno a tema le parole, che sono un ponte di collegamento e di unione tra tutti noi. Le parole è proprio frutto di una collaborazione tra cultura e turismo perché vogliamo attrarre, grazie alla cultura, grazie alla conoscenza e alla voglia di scoprire, più persone possibile a scoprire la storia di Fossombrone perché Fossombrone è solo da scoprire e dà la piena possibilità di diventare una delle città più importanti delle Marche. Una rassegna che ha trovato il sostegno da parte dei bandi della cultura, saranno tutta una serie di incontri con gli autori, rassegni, presentazioni di libri, aperitivi letterari, insomma tutto questo non fa che vivacizzare un territorio come è sicuramente quello di Fossombrone che ha molto da dare sotto il punto di vista culturale.